Ottobre è il mese della prevenzione, la vista è un bene prezioso, prenota oggi stesso il tuo esame visivo gratuito presso il nostro centro. Per tutto il mese della prevenzione, occhiali completi di lenti antiriflesso, a partire da 69 euro, con visita gratuita, vieni a farci visita. Siamo in piazza Abro 4, Cava dei Tirreni. OptoCare, ci prendiamo cura della vista. Anche la città di Cava dei Tirreni è stata protagonista della tre giorni alla Fiera Internazionale del Turismo TTG di Rimini, che si è tenuta dal 12 al 14 ottobre scorso. Ciò grazie all'ospitalità gratuita offerta dalla Regione Campania, che ha accolto la candidatura di Cava dei Tirreni nel suo stand, uno dei più grandi organizzati e visitati, dove sono state messe in vetrina le eccellenze dei territori attraverso la presentazione di itinerari con incontri e percorsi di degustazioni a cura di 11 aziende agroalimentari campane. Presenti anche la Maurizio Russo e l'hotel Scapolatillo di Cava dei Tirreni, i quali hanno apprezzato la presenza dell'amministrazione comunale metelliana all'importante Kermes. A tracciare un bilancio della positiva partecipazione della città metelliana al TTG, la consigliera comunale con delega al turismo Marisa Biroccino. Abbiamo partecipato al TTG di Rimini accogliendo la possibilità della Regione Campania di promuovere la città di Cava dei Tirreni. Sull'onda dell'assessore regionale Matera dell'ascolto dei territori abbiamo portato in fiera quelle che sono le eccellenze della nostra città. C'è da lavorare sicuramente perché riteniamo come amministrazione che il settore turistico sia effettivamente un volano e un settore imprescindibile per l'intero territorio sia per quanto riguarda la crescita economica che occupazionale. Il TTG di Rimini non è un punto d'arrivo ma semplicemente una partenza, una partenza che è stata accolta positivamente da imprenditori cavesi presenti in fiera che hanno apprezzato la presenza dell'amministrazione comunale semplicemente per il fatto che il mondo del turismo sta cambiando. Noi abbiamo portato la città di Cava dei Tirreni tra le città della provincia di Salerno con una conferenza stampa in cui abbiamo rappresentato quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Bisogna lavorare perché fondamentalmente riteniamo come amministrazione che il turismo debba proporre una proposta turistica trasversale ed integrata. Siamo pronti ad ascoltare tutti quelli che possono dare un contributo per migliorare sempre di più la proposta turistica del territorio, per commercializzare, promuovere e valorizzare quello che è l'aspetto territoriale ma anche le eccellenze della nostra città. Tuttavia la presenza dell'amministrazione comunale al TTG di Rimini non ha mancato di suscitare polemiche. Infatti proprio nei giorni in cui era in corso di svolgimento la fiera nella città romagnola a criticare l'operato dell'amministrazione Servalli è stato Romualdo Balducci Maiorino, noto imprenditore del settore alberghiero Cavise, il quale sostiene che nella città metelliana manca da decenni una vera e seria politica turistica e che quindi la presenza a Rimini è stato soltanto uno spreco di risorse che potevano essere destinate ad altre operazioni più significative. Critiche sono arrivate anche dall'ex sindaco Marco Galdi. A replicare ammuso duro alle accuse la consigliera Birocino, la quale ha fatto sapere che la città di Cava di Tirreni sarà presente anche alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si terrà a Pestum dal 26 al 29 ottobre. Rispetto alle critiche possiamo dire che fintanto sono costruttive, ben vengano, ma nel momento in cui nella città circolava la voce di una gita piuttosto che di una scampagnata posso rispondere che nelle stesse ore noi avevamo il piacere di parlare con persone entusiaste di conoscere Cava di Tirreni perché per troppi anni il nostro territorio è stato dato per scontato quindi questa attività che ripeto è solo l'inizio di una progettualità ad ampio raggio in cui abbiamo intenzione di coinvolgere tutte le realtà imprenditoriali della città deve essere presa come una cosa positiva e quindi semplicemente un primo passo per migliorare sempre di più la nostra proposta turistica.